A 270 anni dalla scoperta del sito archeologico, Pompei continua a stupire grazie agli ultimi eccezionali ritrovamenti. Gli scavi avviati in una porzione mai indagata prima, di mille metri quadrati, hanno infatti portato alla luce il basolato delle strade antiche e un'intera domus in cui sono stati rinvenuti una terracotta a testa di leone, delle monete e altro materiale che verrà esaminato e che andrà ad arricchire la conoscenza dell'antica città portuale. Si torna a scavare a Pompei su vasta scala, ha detto Massimo Osanna, direttore del parco archeologico, soprattutto con l'impiego di strumenti di nuova tecnologia messi al servizio dell'archeologia dal drone al georadar e il supporto di un team interdisciplinare. Tornano i Cinema Days, l'iniziativa promossa dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, che prevede 15 giorni di ingresso scontato a 3 euro nelle sale aderenti in tutta Italia. La promozione sarà valida dal 9 al 12 aprile, dal 9 al 15 luglio e dal 24 al 27 settembre. Cinema Days è la campagna promossa dal Mibact insieme agli esercenti, distributori e produttori italiani per riavvicinare il pubblico alla magia del grande schermo e prolungare la stagione cinematografica anche nei mesi estivi. Dal 9 al 15 agosto una settimana di proiezioni in anteprima assoluta. Notiziario a cura del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo. Maggiori informazioni su beniculturali.it Notiziario a cura del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo. Info su beniculturali.it Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.